Ferragosto di bel tempo e di gran caldo. In Liguria è scattato oggi il bollino giallo. Niente di allarmante o temperature elevate come quelle registrate ieri in Sicilia, ma certamente occorrerà avere qualche attenzione in più. Nella notte la minima più alta è stata registrata a Tassani di Sesti Levante 24,4 gradi. Il picco del caldo lo stiamo vivendo, lo vivremo tra oggi, domani e dopodomani, con temperature ben oltre i 30 gradi. Bisogna dire che al momento non abbiamo dei record di temperature massime spaventosi. Ieri 37,4 a Sesta Godano ha limato il record estivo del 2021 per la nostra regione, che era sempre dello spezzino con Castelnuovo Magra con 37,2. Abbiamo fatto anche negli anni recenti di peggio, però insomma vediamo cosa accadrà in questi giorni. Poi per un po' di refrigerio o comunque un cambio ipotetico di circolazione, forse qualcosa potrebbe accadere tra lunedì e martedì, però la modellistica in questo senso è ancora incerta. Diciamo che al momento ci teniamo l'anticiclone fino a domenica. Secondo i dati di Alisa, in Liguria sono circa 180.000 le persone che possono essere suscettibili alle ondate di calore. ASLE 4 registra oltre 16.000 persone a rischio basso, 435 a rischio intermedio, 112 a rischio alto. È attivo il numero verde 800 593 235, valido su tutto il territorio regionale, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà. L'altro aspetto, ecco questo è importante, sono i valori d'umidità che sono sui valori medi, localmente anche bassi. Quindi questo rende il caldo che stiamo vivendo più secco, più torrido rispetto ad altre esperienze di ondate di caldo a cui era associata anche un'alta umidità.